Siamo nel pieno del periodo della fioritura delle orchidee, periodo che coincide più o meno a quello che va fra marzo e aprile fino a ottobre e novembre, che è il periodo dei matrimoni. La difficoltà è tanta, siamo da due mesi, due mesi oltre, due mesi fermi in sostanza col fiore reciso e con la pianta fiorita. Che cosa succede con queste bellissime orchidee quando non riuscite a venderle perché non ci sono le cerimonie? Siamo oggi quasi a 30.000 steli già di reciso buttato e 25-30.000 piante buttate già. Le condizioni di sicurezza e di sanità ci hanno proibito, in effetti, neanche la distribuzione omaggio del nostro prodotto. Qualche aiuto? Tante belle parole, tante belle idee, nella realtà dei fatti poca concretizza.